Siamo tornati con i bangers direbbero in America con i video importanti clamorosi su cui mi ci metto lì a lavorare della domenica Il lavoro che ho fatto è qui, il titolo del video l'avete visto, spero di aver fatto una bella copertina Oggi affrontiamo il torneo fra tutte le squadre del videogame C'è stato tutto il ragionamento dietro questo video, tutta una preparazione, spero di riuscire a farvela capire Spero apprezzate l'idea e per questo vi chiedo di arrivare a 2000 mi piace Iscrivetevi perché ho tante idee del genere da portarvi Abbiamo già fatto l'anno scorso un torneo con le squadre all time che vi lascio in descrizione Oggi ci occupiamo delle squadre attuali più tutte quelle storiche dagli anni 50 al 2019 Credo sia la più recente, i Raptors che ci sono nel gioco, sono 97 squadre Cominciamo dal primo tabellone, ne vedrete tanti di questi E solo quando vi dirò io che questo è il tabellone ufficiale del torneo Dovete considerare queste partite che vedete a mia sinistra e a mia destra Come effettivamente parte di un tabellone Perché queste squadre che vedete qui non si andranno poi ad affrontare nei turni successivi Ma è semplicemente un girone di qualificazione Come funziona? Ho dato un numero a tutte le 97 squadre e ho fatto un'estrazione casuale E voi direte come è possibile che le hai fatte a dispari? C'è stato un turno di prequalificazione che voi non avete visto ma che ho simulato una partita secca senza di voi E ho scelto un'altra cosa Prima di fare questo prequalifica diciamo Ho scelto che una sola squadra è stata graziata dalla randomica selezione della posizione Una sola squadra quella che detiene il miglior record ogni epoca in regular season Ovvero gli Warriors del 2016 del 73-9 Solo loro accedono automaticamente alla seconda fase che in realtà è semplicemente quella effettiva del torneo Tutte le altre sono nel mischione dell'eliminazione diretta Come vedete per questo Phoenix Minnesota le partite reate entreremo per vederle assieme E vedremo cosa succederà Chi sarà l'eroe di questo torneo Phoenix ha bisogno di un canestro Qui si sono beccate due squadre attuali Si beccheranno poi squadre degli anni 2000 e degli anni 90 Ma saranno ancora più belle le sfide tra una degli anni 50 e l'altra dei primi anni 2000 Chris Paul per il miracolo sbaglia E abbiamo forse già una sorpresa Perché i Phoenix Suns perdono e avanzano invece i mini esotati Inverwals al secondo turno Tra virgolette Gli Orlando Magic del 95 hanno vinto abbastanza comodamente contro un'altra squadra degli anni 90 I Golden State Warriors del 91 28-11 e doppie doppie qua tra Horace Grant e Shaq I Thunder del 2012 hanno faticato più del previsto Ma guardate che prestazioni del trio Westbrook durante Arden contro i Cavs attuali Questa mi sono perso un arrivo in volata Ma i Magic attuali hanno battuto i Nuggets del 94 Incredibilmente Di un solo punto E altrettanto incredibilmente Team Hardaway e i Miami Heat del 97 Hanno battuto gli Spurs del 2014 Che hanno dominato le Finals ma perso contro questa versione degli Heat I Bad Boys battono i Bad Boys attuali Quelli dei Miami Heat 36 di Dumars e 6 C-Assist di Isaiah Thomas I Bucks vincono di 10 contro i finalisti del Finals 96 I Seattle Supersonics 30 e 11 di Gianni 115-105 E in maniera direi abbastanza che mi lascia perplesso Abbiamo la prima vera sorpresa di questo torneo Perché gli Oklahoma City Thunder attuali battono E anche faccio i 113-91 I Jazz del 98 Di Stockton e Malone Allgram Già vedo carichissimo 17-3 19 di Ghi 28-12-5 di Shai Wow Secondo tabellone qualificatorio Che vede un po' di belle partite I campioni in carica NBA attuali Un po' di squadre vecchie Un po' di squadre nuove Vediamo cosa ne salta fuori Pistos campione NBA 2004 Battono agilmente i Nets attuali Era una partita molto interessante Questa qui 29 Mike James Ah, non quel Mike James attuale 29-10 di Chomsky A sorpresissima nonostante i 42 di Steph E gli Warriors perdono 127-119 32 di Roseer 23-12 Assis di Lamelo Nonostante la rimonta finale Gli Spurs del 2005 tengono il vantaggio E vincono con i 30-15 Team Duncan 23-10 Assis di Tony Parker Contro i Sixers attuali Che però si difendono bene Altra sorpresa Con i Team Bros del 2004 Che battono i campioni Degli Uster Rockets 94 25-15-5 Per Garnett Non basta i 32 eventi di Hakim Knicks del 2012 Vincono Soffrendo Con i Celtics Del 65 Che fanno Grandi prestazioni balistiche Ma Carmelo Li batte I Raptors attuali Annichiliscono Gilbert Arena Nonostante i suoi 32 punti 114-90 Il punteggio finale Hanunobi con 26 Van Vliet con 22 E per chiudere questo tabellone Era un primo big match Diciamo così Che i Cavs del 2007 Contro i Lakers del 98 In realtà 128-108 Facile per i Lakers 32-15 di Shaq 30-12 di Van Ex Solo 19 per un giovane Kobe Le Brom Non basta Nell'ultimo match di questo tabellone di qualificazione Kate Cunningham ha due liberi Per chiudere il discorso passaggio del turno Per i Detroit Pistons attuali Che stanno battendo i Raptors Del 2000 Dovrebbero essere E questo li fa vincere la partita Ebbene sì Detroit passa Terzo tabellone di qualificazione Sì Abbiate pazienza Sempre il solito funzionamento Squadre vecchie Squadre 9 L'unica cosa che vi aggiungo qui E che i Knicks del 2012 Sono quelli che hanno passato Ancora il turno di prequalificazione Battendo i Pacers Attuali Per cominciare i boost Del primo titolo di MJ Si sbarazzano 103-87 Con un ottimo quarto quarto Dei Rockets del 2008 Magre di Yao Ming ci provano Ma Jordan è troppo Per quanto mi riguarda la sorpresa I Nuggets del 2008 Perdono 107-120 Contro i Knicks del 99 Lettre Spure 27-12-6 Patrizio E Alan Houston Altri ventelli Nonostante i 35 Di The Answer E nel derby degli anni 90 I Bulls Dell'89 Quasi Anni 90 Vincono 117-113 Contro i Cavs Degli anni 90 Appunto Del 90 Anzi Jordan 24 Pipe 21 Paxson 20 Niente Sti Cavs Neanche qui non ce la fanno Abbattere i Bulls Derby di Los Angeles Non c'è il tiro da 3 punti Ma c'è John Wall Che va a mettere Il layup 119-111 Ebbene sì Perché i Lakers del 65 Non avevo considerato l'opzione Adesso vedendo il campo Dobbiamo aggiornare questa considerazione Del fatto che Se le squadre vecchie vecchie Vengono selezionate Nel mio sorteggio Tabellone Come squadra in casa Giocano Giocano Col loro campo Senza il tiro da 3 punti E questo Se giochi contro una squadra moderna È un grande vantaggio Eh Dovevo tenere in considerazione Anche questo Mamma mia Il Jim Baylor Nonostante la stoppata Di Paul George Mette all'effetto Il canestro E adesso C'è un game winner Vediamo un po' Che si inventano I Clippers Non possono tirare da 3 Ricordiamo Ma hanno altre opzioni Di sicuro Si va da Zubac Che non mi sembra Una gran idea Paul George Ti prende una tripla Senza che sia una tripla La sbaglia E a sorpresa I Lakers Del 65 Sì 65 Stanno per passare il turno Come non detto Ultimissima chance Già ricevere lì Vuol dire Praticamente Suicidarsi Sì E difatti Passano i Lakers Altra squadra di LA Che vince 107-96 Contro i Knicks Del 2012 Questo non me l'aspettavo Devo essere sincero 20 rimbalzi Di Tyson Cender 15-12 Di Jeremy In 40 Sì 40 20 di Carmelo Anthony Però Dall'altra parte Prestazione di squadra E vincono facile Non basta il 34 A 18 Del quarto quarto I Bulls Tengono Dura la stretta Sulla vittoria I Bulls De 93 Battono i Celtics Dell'86 Che erano una signora Squadra Sono sorpreso Siamo un po' sfortunati Magari col matchup E ecco perché Hanno perso Perché E Jordan Ha deciso Che non sarà La perdere E i re degli upset Ne fanno un altro I Warriors Del 2007 Del We Believe Battono Jordan Dell'86 E i suoi 25 per Baron Davis 21 per Captain Jack E in una sfida E in una sfida Tra l'anni 70 I Knicks Del 72 Con 37 punti E 7 ass Di Wolf Rager Passano facilmente Il turno Contro i Sixers Altro giro Altro tabellone Di qualificazione Del torneo Big match Clippers Lakers Lob City Contro la squadra Del 6-1 Vediamo Cominciamo Quelli di 2013 Che tengono a base Bada I Blazers Del 91 34 10 assist Per Lebron Occhio che questa potrebbe essere una delle favorite alla vittoria finale Scusatemi se ogni tanto sarò in mezzo Mi dimenticherò di rispostarmi a lato Comunque con un 30-11 di finale I Grizzly del 2003 Ci battono i Kings attuali Con Leigh Zach Randolph Sugli scudi Ma non c'è Margasol Ma come l'hanno fatta sta squadra? Vabbè Non bastano Fox e Sabonis Altro super parziale Nel quarto quarto Che stecca La partita Ai Blazers A favore Del Sacramento Kings del 2002 36 punti Di Stojakovic 26 di Rudy Fernandez Io l'ho però Perso Più 30 Facile facile Per i campioni NBA Dei Dallas Mavericks 2011 29-14 25 del Jet 22-11 di Merion Si liberano ampiamente Dei Jazz attuali Altrettanto facilmente I Bulls attuali Si liberano Dei Grizzly del 2006 Qui si che c'era Pau Gasol Però i suoi 25-10 Non bastano De Rosa Penso sia il carirai Del torneo Per adesso 44 per De Mardo Non c'è niente da vedere Neanche nella sfida Tra Hornets Del 93 Che vincono Con i 27 punti Di Johnny Newman Ok 27-15 Di Alonso Morn Un incontro Bill e i Wizards Attuali Non so se la volete considerare La sorpresa Ma in una bellissima sfida Tra Tra Young e Iverson Prevalgono gli Hawks Attuali Con 41-13 Assis Di Trae 49 Ha aggiornato il carriera Del torneo Per The Enswer Che conferma Aver portato Una squadra Vergognosa Alle Finals Non le porta Al tabellone Principale Del nostro torneo Ma il vero Offset Viene qui Perché L'Obsity Di Chris Paul Blake Griffin E Jordan Non Jordan Jamal Crawford E JJ Reddick Vince 134-117 Contro i Lakers Del 2001 Di Shaq E Kobe Questo è un boccone Duro da digerire Però Giocando al gioco Moderno Forse Non ci credo mai Ma Diamo un senso A questa cosa È arrivato Un nuovo tabellone Ma siamo finalmente Arrivati nel momento Delle migliori 64 squadre Rimaste Quindi Anche questo tabellone Non porterà poi I riscontri diretti Vi dirò io E lì vi chiederò Di fare una prediction Ma se siete così pazzi Da farla Adesso Rivedremo squadre Che abbiamo già visto E vedremo squadre nuove Che invece Sono state fortunose E fortunate A non incorrere Nel girone di qualificazioni Il primo è subito Un big match Porca boia 48-12-10 Del KD del 2012 40-14 Assis Del Westbrook Del 2012 Che battono In rimonta I boost Del 2011 Con i 36 Di Di Rose E i 22-12 Di Booser Che bella partita E peccato Che non sia arrivata Punto a punto Finisce qui L'avventura Dei Lakers Del 65 Che perdono Di 18 Contro I Mavs Del 2011 27-12 E 6 assist E 2 stoppate Senza segnare Da 3 punti Per Per Dircone Ma basta Per passare il turno Scendono in campo Per la prima volta I Warriors Del 2006 Ci mettono All'effetto 146 punti Vincono Di 30 Contro gli Hawks Aggiorniamo Il carriera Di questo torneo Con i 51 12 su 15 Da 3 punti Di Clay 30 di Steph Che si limita A fare il compitino Beh li vedo Un attimo carichi I Lakers Della Lob City Con i Trentelli Di Pau Niente Chris Paul E Blake Griffin Mandano a casa I Knicks Del 72 Direi anche giustamente E qui secondo me A sorpresa I Kings Del 2002 Passano un altro turno Partendo di 14 punti Con un ottimo Secondo tempo I Bulls Del 89 Jordan Limitato A 20 punti 8 su 17 Al campo Hai capito I Kings E per qualche strana ragione I Knicks Attuali Dominano la partita Contro gli Orlando Magic Di Penny E Sheck Che fanno entrambi 22 punti Ma Branson Barrett Rendell Top In Fournier E Quickly Fanno doppia cifra Di punti E vincono Ok Ho miscliccato E ho messo in pausa Troppo presto Era 100 Troppo tardi Era 105 A 104 Per i Pelicans I Denver Nuggets Di Jokic Non so chi Ma hanno messo Il canestro Sulla sirena 106 A 105 36 C8 Per i Jokic Battono I Pelicans Questo Invece Non me lo so Non me lo voglio perdere 108 Pari Memphis Attuale Contro Ok Si attuale Vediamo se sarà Moranta A prendersi la responsabilità Dell'ultimo tiro Come dovrebbe essere Io penso Proprio Di Si La difesa è stata Pessima Moranta Ancora più pessimo Ci pensa Steven Adams Ci pensa Steven Adams Che festeggia giustamente Primo buzzer leader Visto Anche se secondo Di questo torneo Che ci sta regalando Grande emozioni Bella per il tagliafuori Di Holmgren Comunque onora Ok si Che perde Di 2 Sulla sirena Altro tabellone Che ci avvicina La parte finale Qui a destra Abbiamo 2 big match Ovvero Quello dei Bulls del 98 Contro i Bucks attuali E quello dei Bulls Del primo titolo Contro i Miami Del 2013 Vediamo Che ne viene fuori Beh non so se dire La sorpresa Secondo me si I Bulls vincono 110 a 100 Con Un buon Vincendo quasi tutti i parziali Come vedete lì Jordan 33 Non bastano I 34 6 e 4 Di Giannis Mi aspettavo Non particolarmente Devo dire In una sfida Tra grandi lunghi I Knicks del 99 Battono I Grizzies Del 2013 Con i 29 10 rimbalzi Di Patrick 24 Di La Trails Priwell Anche qui Non me l'aspettavo Ma non è chissà Che sorpresa Rischiano grosso Ma con un 43 29 I Boston Celtics Del 2008 Battono gli hit Del 97 33 Per The Truth Non bastano Il doppio ventello Di Tim Mardove Alonso Morning Non so se contro Pronostico No ma i Warriors 2007 Fanno un'altra vittoria 32 Di Trae Young Che perde 118 106 29 Di Jay Rich 27 12 Assist Di Baron Davis Nell'altro big match Di questo Tabellone I Bulls Del 91 Massacrano No Però 114 112 Contro Gli Hit Del 2013 Nonostante Chris Bosh Che si è fatto 11 su 11 Al campo Per 26 punti I Pistons Del 89 Si sbarazzano Facilmente Degli Spurs Del 98 Ma facilmente Proprio 20 di Duncan 24 di Isaiah Thomas 22 di Vinnie Johnson Del Microwave Proseguono le vittorie Dei Bulls Perché anche quelli Del 93 Passano nel primo derby Tra due squadre Della stessa identica Annata Del Curry Ne mette 26 Ma non bastano 44 6 e 9 E 6 recuperi Di Jordan 34 118 Di Pippen E buonanotte E per qualche strana ragione Suppongo Una di quelle Sia l'assenza Di Rashid Wallace E nonostante I 26 di Stadham E i 21 di Pippen I Magic Attuali Fanno 151 punti Banchero 24 E passano il turno Nuovo tabellone Ma ci siamo spostati A destra Nel tabellone generale Dei 32esimi Di finale Abbiamo un'altra Grande squadra Che fa il suo esordio In questo torneo Ovvero i Bulls Del 96 Subito contro Un'avversaria tosta 10 secondi Un decimo A giocare Nella sfida Tra i Suns Del 2003 E i Nets Del 2002 Dove è quasi Coetane Rischia L'anticipo Qui Jason Kidd Serve una Tripla I Suns Non ho visto Chi è stato Chi è stato A prendersi quel tiro 116 pari Overtime E la strada di Iso Joe Di Joe Johnson Non basta Quella tripla Perché 15 a 7 Nel supplementare I Nets Con i 32 10 rimbalzi E la quasi Tripla doppia Di Vanorn E la quasi Tripla doppia Di Kidd Passano il turno Attenzione Perché ci sta Deliziando Questo tabellone Di grandi Matchup Ginobili Difende Su MJ Questo era il big match Di cui vi parlavo Prima Gli Spurs Hanno una tripla Potenzialmente Tra le mani Da passare il turno Niente tripla Perché si va sotto La team ID Che si fa spazio Porta I Spurs Del 2013 Se non sbaglio Non ricordo male Forse no 2007 erano questi La situazione Leggermente cambiata Adesso Perché due veloci Di Michael Poi uno su due Di Tony Parker Quindi adesso Meno due Bulls Io non Comprendo Perché Jordan Non abbia ancora la palla Eccola Che probabilmente Che gli viene data Forse un po' tardi Alla fine Non gli viene data Incredibilmente Il tiro non è male Ma Ronar Per lo sbaglia E vedi a non passare L'AMJ E vedi che c'è Dei cretini Passa San Antonio Del 2005 Controllato 122 a 120 I Lakers Del 2004 Fanno un tonfo Nell'acqua pure Qui Perdendo 9-9 8-7 Contro i Bucks Carino Carino 122 a 16 20 di Karmalon 20 di Kobe Ma non bastano Altro finale In volata Ci sono I I Mavs Del 2003 Contro I Pistons Attuali 116 Pari I Pistons Stanno rischiando Di fare un altro Miracolo Vediamo se si va Da Dirk No Perché in realtà È dal lato opposto Forse gli arriva adesso La palla Sì Questa volta L'hanno passata Al loro miglior giocatore Ma c'è Marvin Bugley Davanti a lui Che a quanto pare Basta per difenderlo E incredibilmente Provano la rimonta Nel finale Ma non basta I 34 di Sadik Bay Battono E i suoi Pistons Battono I 2003 Mavs Altra sorpresa Perché gli Spurs Di quest'anno Guardati da Keddon Johnson Battono 120 a 109 I Lakers del 98 Sta succedendo Di tutto In questo In questo tabellone Qui che stiamo vedendo Veramente di tutto Vincono solo di 2 E qui mi sono perso Il finale tirata Colpa mia I Basers Del 2014 Con 39 punti Di Paul George Una doppia doppia Quasi tripla Di Paul Reddy Battono I Knicks Del 95 Rimontone Nel finale Per i Timberwolves Del 2004 Che battono I Raptors 119 a 110 23 di Kawhi 31 16 rimbalzi 9 assis 2 recuperi 3 stoppate Di Kevin Garnett Che domina la partita E porta i suoi Timberwolves Al secondo turno Terzo Prossimo turno Facciamo così Continuano a sorprendere Anche i Bulls Attuali Perché De Rosa Ne ha messi 44 Nelle qualificazioni Ne mette 44 Anche nel primo turno Del torneo 21 e 16 di Wood Cevice 14 e 17 Di Lavin E i Bulls Attuali Battono i Lakers Del 91 Nonostante la triple doppia Di Magic Ultimo mini tabellone Per quel che riguarda I 32esimi del finale Questa volta il big match Ce l'abbiamo qui a sinistra Il Warriors 2017 Contro i Celtics Di quest'anno Luca Doncic Batte subito il colpo Nel torneo 42-9 15 ma ne fa 40 E anche Christian Wood Con 9 triple Ecco perché i Mavs Attuali hanno vinto Quasi di 20 Contro i Lakers Dell'87 E altro upset Perché i Lakers Attuali Trainati dai 26-9-9 Di Lebron 25-13 I Davis battono i Bad Boys Più moderni Del 2004 Dei Pistons La prima gioia Che mi danno i Lakers Attuali Nonostante i 25 punti Di Chauncey E via di sorpresa Perché i Raptors Attuali guidati dai 31 Di Siakam Battono Shaq e Wade Shaq che non gioca benissimo Wade Si è come Ma non bastano 113 per i Raptors 114 per gli It Del 2006 Ma i pezzi grossi Arrivano qui Warriors Sotto di 2 Contro i Celtics Canestro di Jalen Brown Per il Più 2 Sono curioso Di vedere se i Celtics Si vendicano Dalle Finals Di quest'anno Anche perché Questi Warriors qui Sono da tanti Detti una delle squadre Più forti di sempre Quindi Chi è il 5 Scusatemi KD Non ho visto Che Forse Curry Ha avuto E' uscito Per falli Perché non mi spiego Altrimenti la sua Non presenza in campo Eric Bledso Che non credo Giocasse Agli Warriors Come le hanno fatte le squadre Non ho toccato niente io Eh si Sei falli per Steph Sei falli per Steph E quello Per cui non era in campo Il tuo top scorer Te credo Che te perdi Nonostante il tentativo Di rimonta Vincono i Knicks del 2012 Sui Lakers Degli anni 70 29 di Jerry West 39 però Per Carmelo E 27 tra i ciasti Di Jeremy Lin Per una volta Tanto una squadra vecchia Batte diciamo Un attuale Perché i Bucks di 85 Vincono con 35 punti Di Sidney Moncrief Su Edwards E i suoi Timberwolves E a sorpresa Ma in realtà Se ci pensiamo bene Neanche troppo Gli Hornets Passano un altro turno Quelli attuali Nonostante 19 di Sam Jones 15 di Stretta di Bill Russell Ci pensa Di nuovo Scary Terry A mandare avanti I suoi Lornets E con un mostruoso Secondo tempo Kerry Irving Lebron da triple doppia E i suoi portano A più 20 Il vantaggio Sui Blazers Attuali Che effettivamente Non hanno molto a che vedere Con i Cavs del 2016 Nuovo giorno Per me Pochi secondi di differenza Per voi Ma la cosa più importante È che abbiamo Solo due Tabelloni rimasti Cominciano Si cominciano a vedere Qui È come se il lato destro Fosse tutto spostato Verso sinistra E dopo tutto il lato destro Sarà verso Verso destra Quindi i matchup Che cominceremo a vedere Al secondo turno Di questi tabelloni Sono quelli che vedremo Anche nel nostro Tabellone Quando avremo poi Definitivamente uno solo Tra l'altro come vedete Qui sotto Abbiamo il Uno dei primi Anzi no Il primo derby Tra due squadre Di MJ e dei Bulls La prima squadra Ad accedere al tabellone Finale Sono i Knicks Del 99 Che battono Esea Thomas E i Bad Boys Con Alan Houston Da 32 Due rimbalzi Due assist Due recuperi Con 6 su 6 Da 3 Altri punto E 2 su 3 Da 3 Per Spriwell Il 2 su 3 Per Charlie Wall Vabbè 12 su 21 E hanno vinto di 5 Non so se può considerarsi Una sorpresa Ma i Celtics del 2008 Di Alan Pierce E Garnett Battono i Bulls Del 93 Con Jordan Tenuto solo A 29 punti 37 per Pippen Ma dal primo quarto Ve lo sto coprendo Ma è 45 A 23 Per i Celtics Hanno dominato Questa partita Per qualche strana ragione I Knicks attuali Sono in vantaggio Contro i Mavs Del 2011 I Knicks Sono lì per passare Un altro turno Sbaglia Tocca a rimbalzo Palla dei Mavs Non hanno time out Parano 10 secondi e mezzo Per andare di là A organizzare un tiro Non ho visto Se Dirk è in campo C'è stata la partita Dei 6 falli Buggata No È in campo Vediamo chi si prende Quest'ultimo tiro A quanto pare Jason Kidd No A quanto pare Dirk A quanto pare Kidd Lo sbaglia C'era Dirk Che stava uscendo Dai blocchi Non so Perché non gliela ha passata I Knicks attuali Arrivano nel tabellone finale Di questo torneo E via di sorprese Perché gli Warriors del 2006 Ci perdono contro i Nuggets attuali 29, 18 e 11 di Jokic 23 di Murray 22 di Aaron Gordon E via Effettivamente i Warriors del 2016 Erano senza un centro Però credo fosse più Un pregio Che un difetto Non so più In che multiverso Mi trovo Dopo questa I boost del 98 Vincono il derby Contro i boost Del primo titolo Quindi dell'ultimo titolo Vincono contro quelli del primo Ci sta come cosa Jordan 33 28 9 10 Quasi tripla doppia Di Pippen Del 98 E con un super ultimo quarto I Warriors del 2007 38 punti Di Baron Davis Battono Banchero E i suoi Magic Che sono arrivati anche loro Attanto così Dalla finalissima Del tabellone finale E la parte sinistra Del tabellone Si chiude Con i Thunder Del 2012 Che grazie ai 41 punti Si rimbalzi 8 assist Di KD Battono in rimonta I Sacramento Kings Del 2002 31 punti Per Bobby Dovrebbe esserci Jackson Anzi no Mi ero dimenticato Dei poveri Clippers Della Lob City Che vincono contro Morant Stellare 34 di Blake Griffey 23 13 assist E 8 rimbalzi Di Chris Paul 20 di JJ Reddick E Viandar Ed eccoci qui Nella parte destra Del tabellone L'ultima schermata Prima del tabellone finale Abbiamo anche qui Grandi classici Come grandi sorprese Come i Pistons Attuali E gli Hornets Attuali Vediamo chi arriva Al tabellone finale Nel derby infinito Tra Lakers e Celtics I Lakers Attuali Guidati da Lebron Anthony Davis E Lonnie Walker Quarto Battono i Celtics Dell'86 Nonostante i 34 14 e 9 Di Kevin McHale Ho dei dubbi Ma va bene I Toronto Raptors Attuali Battono gli Hornets E arrivano Al tabellone finale Con i 24 I De Nobi 18 e 13 Di Siakam E la doppia doppia Di Van Vliet E a sorpresissima Gli 9 Pacers Del 2014 Di Paul George E Roy Ebert Battono Gli Spurs Anzi Del 2005 Duncan gioca Una Buonissima partita Pur tirando male Perché sono 8 stoppati Nasi Mohamed Fa un disastro Con due sui dolci Del campo E gli Spurs Sono a casa 101 Pare invece Nella sfida Tra Milwaukee Degli anni 70 Timberos Del 2004 4 Questo era Oscar Robertson Che ha sbagliato Sì sì Era lui E non hanno più time out I Timberos Vediamo se la palla Viene data A KG No Si va dall'altro lato Forse arriva La palla C'è ancora tempo No Non è male Questo tiro In realtà Chi se l'è perso Lì Ma com'è possibile Che abbia tirato A parte che Non so chi sia Ma com'è possibile Che abbia tirato Con quello spazio Lì Vincono i Timberos In maniera abbastanza Al cardiopalma Però Pessima Pessima Difesa dei Bucks Che escono così Malamente E il caro Luka Doncic Fa un'altra vittima 44 14 12 Per lui Guarda che Dallas Questa Dallas Rischia di vincere Il torneo Contro i Knicks Del 2012 Carmelo Non tira benissimo Gianli Forse peggio Tanti saluti E tanto per cambiare Lebron James Con una tripla doppia Senza alcun tipo di senso Purga I Boston Celtics 37 di Carey Non bastano i 36 di Tatum I Celtics Attuali Sconfitti Dai Cavs Ed è una partita Ripeto Assurda Di Lebron Che accede Al tabellone finale Ci salutano anche Gli Spurs attuali E mi verrebbe a dire Era anche ora Grazie ai Nets Del 2002 Grazie ai 28 punti Kenyon Kevin Martin No Kenyon Scusatemi Kenyon Era giusto E 25 11 assist 6 recuperi E 5 rimbalzi Di Jkid Arrivano al tabellone finale E grazie al duo La Vinde Rosani I Bulls attuali Battono Una delle tante sorprese Ovvero i Pisters attuali E passano il turno Arrivano al tabellone finale Finalmente Adesso Ci siamo Eccole qua Ce le abbiamo Le 16 squadre Siamo partiti Siamo partiti dal 97 Siamo andati a 16 squadre Io non so quanti minuti Siano passati all'interno Del video Ma vi invito a mettere in pausa E a dirmi tra queste 16 Secondo voi Chi Sarà La vincente Ci sono tante squadre Che non mi aspettavo Di trovare qui Tra cui di sicuro New York E Toronto Attuale Su tutti Ci sono anche squadre Che però mi aspettavo Di trovare qui Come i Cavs del 2016 Come i Boos del 98 Come OKC 2012 Forse anche l'Hop City Boston 2008 Sono sorpreso Non sia arrivata Nessuna squadra Degli Warriors Ma adesso Scopriamo Chi va Ai quarti di finale I Cavs del 2016 Si presentano Carichi al tabellone finale Anichilendo I Raptors attuali 35-6-13 Di questo Lebron Che sembra una macchina Davvero infermabile 24-Jer Smith 23-12 Di Kevin Love Serve una partita Incredibile Da parte di Jason Kidd Per battere I Pacers del 2014 39-9 rimbalzi Tra i Ciasi Ci sarebbe anche Un 38-ello Del non ancora diventato Pandemic P 23 per Ibert David West Stecca un po' la partita Passano i Nets Più agilmente invece Passano il turno I Celtics del 2008 Guidati da Ray Allen E Paul Pierce 108-90 contro i Warriors Del 2007 Che questa volta Non riescono A ribaltare Un altro pronostico Non voglio dire per fortuna Ma Quasi I Knicks Finalmente attuali Vengono maciullati Dai Thunder Del 2012 Questa volta È Westbrook A farne 40 Con 10 rimbalzi E 7 asti Carriera I del torneo Rimane Clay Thompson Con 51 Se non ricordo male Che di comunque Anche lui Una partitina Jeremy Lamb 18-19 minuti Tardivo il tentativo Di rimonta Dei Mavs Che rimontano 10 punti Nel quarto quarto Ma non basta Vincono di 5 I Lakers Attuali Nonostante Un'altra partita Assurda 30-10-17 Di Donchic Che quest'anno Su DK23 Nelle simulazioni O queste cose qui È una roba Che non ha nessun senso Di esistere Ma i Mavs Derby tra i due Lebron Bello Altro finale Combattuto E ancora di mezzo Ci sono I Timberos Del 2004 Questa volta Con i Bulls Attuali Che fino adesso Hanno fatto Un grande torneo Guidati da De Marte Rosam Più volte Due almeno Credo Sopra i 40 punti In questo torneo Bella palla Sotto per Garnett Che subisce Il fallo In maniera misteriosa Non riesce a segnare Però Avrà i due Tiri liberi Questa sfida Vale poi Un posto Ovviamente Ai ottavi di finale Ai quarti finale Mi ricordo Contro chi Ad essere sincero Sbaglia Garnett Ai 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 Vediamo se sarà Lavin O De Rosam A prendersi il tiro Sembrerebbe Lavin Anzi di sicuro Lavin Visto l'isolamento Che gli viene creato Va sotto A complicarsi la vita Ma il Lavino A 6 decimi Dalla fine Non c'è tempo Probabilmente neanche Per rispondere I Bulls Sono Ai quarti di finale E non Quelli di Jordan Ma quelli attuali E come è successo Ai Cavs E ai 90 Neanche i Knicks Non riescono Neanche Su NBA 2K A vendicarsi Perché Jordan Del 98 Gliene fa 32 23 per Pippen 20 per Kukoc 20 rimbalzi Di Dennis Rodman E i Bulls Avanzano E i Knicks Fanno un altro Miracolo 141 A 99 Tra l'altro Mi aspettavo Anche di peggio Da parte di Jokic Questi Knicks Per qualche ragione Sono una squadra Del destino Di questo torneo Quarti di finale Ok Sea Thunder Del 2012 Contro i Nuggets Attuali Boston Il 2008 Contro i Bulls Del 98 Bulls Attuali Contro i Nets Del 2002 Lakers Attuali Contro Cleveland Del 2016 Ci siamo 30 secondi Da giocare Meno 3 Per i Boston Celtics Del 2008 Contro i Bulls Della Last Dance Questa volta C'è un altro Garnetti In campo Vediamo se Questo riesce Ad avere un impatto Migliore sulla partita No Sbaglia Ma lì è un po' Salva tutto Da un'altra Chance Ai Celtics Occhio A Paul Pierce La tripla Danno a Rondo Che brutta Gestione Di nuovo Mi sa Che i Bulls 98 Sono in semifinale Nel derby Tra i Lebron Quello attuale Viene spazzato via Dai 41 punti 8 rimbalzi E 13 assist Di quello del 2016 125-110 Per i Cavs Che vanno In semifinale Finisce finalmente La favola Dei Denver Nuggets Dico finito Perché non Finalmente Perché non so Cosa ci facciamo lì Durante ne mette altri 49-12-9 In maniera molto gentile Iocchi Ci prova assolutamente Con la tripla doppia Ma non basta Cade anche l'ultima Rappresentante Delle squadre attuali 37 punti Di De Rosan Che ha giocato Un torneo fantastico Ma non bastano J.Kid Ne mette 33-7-8 E porta i suoi Nez alle semifinali E allora avremo OKC Sia il 2012 Bulls 98 Cavs 2016 Nets 2002 Diciamo che a parte I Nets Le altre tre Hanno tutto il diritto Di stare in queste semifinali E la prima finalista Saranno i Cavs Del 2016 Altra tripla doppia Aggiornato il carry ride Di questo torneo Questo Lebron Qui del 2016 Come lo è stato anche Nella realtà Roba Veramente Da non poter Neanche Immaginare Quanto sta dominando 52-14-10 7-13 Di A3 25 di Vanor 23 di Canyon Martin Che non bastano Vediamo chi dovranno affrontare Io adesso un po' spero nei Bulls Però anche OKC Avrebbe quel feeling Interessante E non c'è stato Sto granché di partita Se non nel Ultimo quarto Dove i Thunder Sono rientrati Durant Non è che ha steccato La partita Forse un po' più Westbro Con 31-15 Assis 27-16-6 Guardo le statistiche Al tiro Più che queste Perché sono mostruose 33 di Pippen 27 di Jordan E allora Così come per il dibattito Il GOAT Sempre qua si ricade Lebron Contro Jordan Per il titolo Della squadra più forte Su NBA 2K23 Ebbene Per qualcuno Sarà una riconferma Ennesima riconferma Per qualcuno Sarà una sorpresa Ma Jordan Batte Lebron I Bulls del 98 Vincono questa partita Vincono il nostro torneo E si laureano come Campioni Di NBA 2K23 Chiamiamoli così 117 A 105 7 3 3 Ecco il punteggio Il punteggio finale Suppongo che l'NVP Dele Finals Sarà Jordan Però in realtà Abbiamo visto fare Grandi cose A pippe E risultato che ci può stare Alla fin fine Ma alla fin fine Anche sì Sono d'accordo Io sceglierei loro Come squadra più forte Di sempre No Mi sono beccato Ovviamente Dopo ore e ore Di registrazione L'unica partita Che voglio vedere Che alzano il trofeo Mi sono beccato Il bug Dei tifosi Quindi stanno facendo La presentazione Ma io non la sto vedendo Eccoli qua Ci accontentiamo Di questo I Bulls campioni E Ron Harper No ragazzi Dai ma com'è Ron Harper 10 punti 3 rimbalzi 3 assist Cioè Jordan Faceva Vabbè Facciamo finta Che Jordan È stato l'NVP Di questa Di questa finale 26 serie assist 5 recuperi 25 di Tony Kukoc 32-14-6 Di Lebron Che però Non tira benissimo Non tira benissimo Neanche Kevin Love E Carey Tira proprio poco A prescindere E Signori Abbiamo finalmente Decretato la squadra Più forte Su NBA 2K23 Spero che questo Videone Incredibile Vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Fatemi sapere Se avete azzeccato Il pronostico Quando vi ho detto Di farlo Col tabellone finale Se avete qualche idea Da propormi nei commenti Sempre ben accetti Vi leggo sempre Ci vediamo nei prossimi giorni Con un nuovo video E ogni sera in live Ciao boys